I met two fifths Cosa ovviano degli italiani? Un saccherrimo di domande e oggi le proporremo ai nostri ospiti che ho scelto proprio con attenzione burocratica Attenzione burocratica perché sono proprio geograficamente, nazionalmente e sessualmente persone diverse E insomma ci risponderanno alle vostre curiosità più curiose su questo paese e questi abitanti del paese Incominciamo perché non lo so, oggi ho perso le mie capacità linguaggiarli Lo so, oggi è veramente più facile La pizza sia o pasta? Hwaoian pizza Wait, no, no, era una grazia, però pizza, definitivamente pizza Perché i koreans sono ossessionati dalla varsicapiniti tutti i giorni? Ma è ovunque, non è sicuro? Un chip in un momento non l'acqua? Non è proprio una cosa? Ma la mia inizia è un'occhetto di fare il riuscito. E' stato un'occhetto di migraia, ma fare con la faccia, quindi... E' stato un'occhetto! Qual è la sport più famoso in Corea? Ciccuro! Ciccuro? Inoltre, in quel momento, come andate e fare l'occhetto. È vero che i donne i coreani mangiando il bicho il bicho che è anche crudo? si, cominciamo il rotto è molto bello se si tocciono si tastese come... è un po' di più sweet so si è bello? è più bello, ma più bello è più bello, ma perché è un po' di più sweet? sembra come sei che tu sei che fai le mano per dire che... un po' di più sui Cosa? 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 In una relazione sin chichi danza dopo il terzo appuntamento? Come flertano i ragazzi coreani? Cosa? Diga bambico svegli Ciana bambico svegli Cosa? 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 Diga bambico svegli Uncialty Cosa? Ca-ci-ci-g Cosa? 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 non sta mangiare mi sa che non florta in Corea Dante non florta lo richiediamo cosa ne pensate degli arancini? 나 원래 al restaurant al te arancini food truck mandevo sipp었어 7-8 anni ma al momento in Corea so many people think about health so people didn't like the fried food so I didn't do it but I think it's really attractive to Korean I ate in Sicilia but it's delicious but it's delicious it's my favorite mi ma la la cili i don't like italiani racist I read newspapers but some footballers they get discriminated by italian football fans I don't like it I don't like it when I was young Italian people have a lot of pizza 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 che tipi di dialettici sono? non sono da Bishan, sono da Kimhae Kimhae è la stessa non è come dire che Milano è la stessa come Napoli posso dire una frase in soldi e una frase è Kimhae Uxusu è davvero bello mia madre chiede perché siete tutti uguali e perché mia figlia è ossessionata da voi? e poi vi facciano uguali questi, guardate questo che è alto, bello così lui invece non vale che vai sullo scalino no vedete lui ha questa faccia molto grande, grossa, una faccia grossa noi diversi è positivo o negativo che altre persone piaccia i koreani per il K-pop? l'ho fatto un giorno dopo un giorno ma non ho mai fatto nulla ma non ho mai fatto ma mi piace molto 한국 e mi sono molto felice e mi sono molto felice perché siete leggermente strani? perché c'è un secondo? perché sai benissimo? e pensi che il ragione di un uomo è molto importante e mi pensi che è un uomo e mi pensi che è un uomo? 1-10 quanti punti di l'amore di più? magari 7? 7-8 7-8 come ti senti a fare un giapone? non è il giapato, non è molto via il giapone in realtà è stato molto più in un paese ma non sono più in un paese di politica problem Non c'è ancora più tempo Ma non c'è ancora più tempo C'è un po' di storia italiana? C'è un po' di storia italiana? C'è un po' di storia italiana C'è un po' di storia italiana? C'è un po' di storia italiana? Marco Polo? C'è un po' di storia italiana? Da Vinci, Leonardo Di Caprio Perché la maggioranza dei coreani non è pro alla comunità LGBT E'boro a dei scris che negli anni E'roi si che nel Broad le C'è un po' di storia Sono appенная C'è una vita senza quel rin bodo Non si è molto n'è Quei il prodotto C'è un po' di storia C'è un po' di storia E' una storia Quei i nostri Inquanto a ciò che vivi C'è un po' di storia quindi siamo in generale, che sono in generale anche i bambini e i bambini che sono stati aperti quindi siamo in generale molto aperta Cri le corrette e il lato, cosa che mi piace? Sì! Perché sono ricordi! Perché è un po' semplice, perché la c'è un po' semplice e perché noi facciamo un po' semplice, perché pensi molto più fai quello che si fa 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 che può fare e sono un po' divertimento Ci sono tanti cose che sono cose molto interessante alcune persone che pensano che sono molto fai solo perché sape un po' semplice Perché quando i i ii uoi niente quattro è, tu non sei mai, quando i ii uoi niente. Perché i ii uoi cattelati, i ii hanno chiesto di ragazzo. Oh, tu sei piaciuta. Non ho piaciuta. Non ho piaciuta. Non è piaciuta, non è piaciuta. Ma io ho piaciuto, ho pensato. Sì, io ho piaciuto, che sono un po. Qui i ii, in qui sono piaciuta, sono piaciuta. Ili ieri cattolib, sono i gai in un club. Dove che ha chiesto di un po' che sei bello in un po' 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 in un po'. è molto bello! mi piacciono! non mi piacciono! solo diciamo in lingua! ma... guarda questo! guarda questo! in un paese un paese un paese ovviamente diciamo che diciamo come fanno gli altri come fanno gli altri non è n***** non è n***** solo il proprio segno è legato in Korea abbiamo ricercato qualcosa sull'internet fino a qualcosa che si arriva se dovessero descrivere in Italia con una parola quale sarebbe? pizza ma non la cosa che conosci perché non è una pizza ok? ok, un altro Marco sì, io miro lì i voi, tanto la ceretta vaccini no, ho faccio nel dove hovalto unaiezione non ho faccio non ho faccio ma non ho faccio perché adesso non ho faccio non ho faccio faccio non è interessante è quello che non è tutto non ho diciamo ci sei la cosa non ho faccio ma normalmente una gente con gioca Ma è vero che non ci sono i box dolce in Corea, solo lo spruzzino lì in mezzo all'anima? That's because the tool is so small. So if you cut it up, you can even sit on your biongi. Ando so, like, shower and together, all together. Saving time. Perché le ragazze coreani pensano che sia troppo sexy girare con le spalle scoperte ma se invece vai in giro con le ciappezze di fuori, va benissimo? Ma anche se non mi scemi cosa vuoi anche se non mi scemi. Ma che si bravo, comunque anche non mi scemi non mi scemi. solo non so, non mi scemi non si buono. E questo è il motivo che non mi scemi da profondamento anche. quindi non è più male ma non è più male perché non fanno il match con il fondo tinta sembrano tutti di scaspire adesso sono i ragazzi non ho capito e ora ho capito ora ho capito Dante è fatto? è fatto? è fatto e questo è tutto per questo video grazie a Jimmy, Dante, Gina e allo Short Guy vi ricordo che tutti hanno i loro social video vi lascio qua sotto in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video pizza carbonara ma che sto facendo qui e là? scusa puoi farvi vedere? ti faccio vedere cosa stanno facendo perché veramente sono ridicoli ma io posso lavorare in queste condizioni? Gino ci sta provando di brutto con Dante comunque grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti